La Suprema Corte di Cassazione ha concluso il processo derivante dall'inchiesta Stammer del 2017 che ha portato alla disarticolazione del cartello di narcotrafficanti che operava tra Calabria e Sud America, il quale era sotto il controllo delle cosche vibonesi del Pititto di Mileto e Fiaredi, San Gregorio di Pona ed ancora dei Mancuso di Limbadi. Le sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Cadanzaro il 27 febbraio del 2023 sono state confermate come definitive poiché i ricorsi presentati dalle difese sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. Filippo Fiaredi è stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione, Domenico Lentini a 17 anni e 4 mesi, mentre Salvatore Paladino ha ricevuto una pena di 17 anni e 6 mesi di carcere. Con questa decisione si è giunta alla chiusura dell'ultimo grado di giudizio riguardante il presunto boss di San Gregorio di Pona e altri coinvolti nel traffico di cocaina.